Un modello, quello toscano, che può essere replicato in tutta Italia ormai? Sì, devo dire che il convegno di stamani è un po' il momento in cui mettere un punto fermo. Il modo con cui, poi nei fatti, nella prassi, nei comportamenti giorno per giorno, la Toscana ha gestito il fenomeno dell'accoglienza, trasformandola in vera e propria integrazione. È un'esperienza che può essere ripetuta in tutte le regioni italiane, anzi, un po' tutte le regioni italiane stanno andando sulla strada che fin dall'inizio ha imboccato la Toscana, ovvero gli immigrati che arrivano, l'individuazione di gruppi omogenei dello stesso paese, delle stesse religioni, delle caratteristiche che possano a loro di stare più a suo agio, l'immissione in comunità adeguate. I 30 immigrati nel paese di 30-40 mila abitanti sono assolutamente fattibili, ma anche nel paese di 2-3 mila abitanti se ci sono le caratteristiche adeguate. Lo studio del modo con cui la loro accoglienza e il loro essere ospiti si trasforma in un'ospitalità utile, quindi lavori socialmente utili, inserimento progressivo se ve ne sono le capacità in posti di lavoro ordinari di quello che è la nostra vita di comunità e conseguentemente il messaggio dall'accoglienza all'integrazione, dall'ospitare al sentire un ruolo vero e proprio attivo nella vita del nostro quotidiano operare, delle nostre comunità. Ecco che tutto questo che riguarda ormai migliaia di persone in una Toscana di 3 milioni e 700 mila abitanti, con questo convegno viene messo in evidenza e viene raccolto anche per le esperienze che in questi mesi sono state vissute.